Salve a tutti, sono Mattia. Per le amiche più intime, Matioski, e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a una nuova puntata del Matioski. E siamo qui anche quest'oggi per parlare delle ultime notizie dal mondo del cinema e delle serie tv. Lo facciamo in compagnia di Capcomics, benvenuto! Eccoci, buon pomeriggio a tutti. Un saluto nella chat. Scusateci ma nel fuori onda stavamo parlando di Wrestlemania. Sono cascato anch'io pesantemente, è un ritorno di fiamma, d'amore adolescenziale proprio totale. Testimone Mattia, una settimana e mezza, ho detto dimmi cosa devo fare, ho fatto la full immersion la sera a recuperarmi tutto. Mamma mia ragazzi. Se volete reinserirvi nel mondo del wrestling è il momento giusto. Che bello, che bello, mamma mia ragazzi, che bellezza. L'atmosfera da cinecomic, da Marvel. Mamma mia. Che è scritto tu? A Triple E ci piace la Marvel o qualcosa del genere. Ma l'hai visto il nuovo logo? Basta. E se è colpa di Mattia, il wrestling influencer proprio. Ma veramente è plagiato, ma ha plagiato stavolta. Vi preparo all'arrivo su Netflix, vi preparo. Detto questo, tre argomenti variegati, oltretutto gli ultimi due sono anche collegati tematicamente, ma noi iniziamo da qualcosa che non c'entra niente, da Game of Thrones. Perché la serie principale, nonostante le polemiche per quanto riguarda le ultime stagioni, è ovviamente un cult della storia della TV, su questo non c'è dubbio. Nel bene e nel male. House of the Dragon è arrivata con tanti pregiudizi e invece parlo sempre di grande pubblico, ha preso decisamente piede, anzi è diventato un prodotto incredibilmente popolare con un'enorme attesa per la seconda stagione. A me non fa impazzire, però qui sto parlando del fenomeno oggettivo. Sta prendendo forma un altro prequel. Attenzione, non bisogna sbagliarsi, perché ne hanno annunciati due. E oggi non parleremo di quello su Aegon il Conquistatore, bensì di un altro che io pensavo non avrebbero mai portato avanti. E dopo vi spiego il motivo. Siamo dalle parti di quello che dovrebbe intitolarsi A Knight of the Seven Kingdoms, il Cavaliere dei Sette Regni. Protagonisti di questo spin-off ambientato un secolo prima degli eventi della serie principale, quindi un secolo prima di Game of Thrones, sono il Cavaliere Dunk e il suo scudiero Egg. Sono una coppia abbastanza improbabile, i due viaggiano attraverso Westeros e vivono delle avventure. Vi mostro gli attori che sono stati scelti. Non sono particolarmente conosciuti, quindi non so quali impressioni possiate farvi. E dopo vi spiego di cosa si tratta. E perché sono un attimino titubante. Dunque abbiamo a sinistra appunto Dunk, interpretato da Peter Cluffy, che non conosco, e dall'altra parte lo scudiero Egg, interpretato da Dexter Sol Ansel, e non conosco manco lui, anche perché quanti anni ci avrà? Pochissimi, pochissimi. Mi dicono che ha interpretato il giovane Coriolanus Snow nell'ultimo Hunger Games, la ballata del tulipano e del serpente. L'usino e del serpente. Sì, sì, sì. Ora, questa serie sarà tratta da alcuni racconti scritti da Martin. Io leggo, sembra una serie antologica, assolutamente no. È una serie di racconti, appunto ambientati cento anni prima, che hanno un'atmosfera decisamente più leggera e per certi versi avventurosa rispetto alle vicende principali, molto crude, ma sono inseriti in un periodo comunque importantissimo a livello mitologico, e non vi dico il perché. E anche questi due personaggi, all'apparenza molto semplici, nascondono dei segreti. Non vi dico quali, ci mancherebbe altro. Qual è il problema? Magari sbaglierò il numero, perché è da molto che non vado a rileggerli, è da molto che non vado a riesplorare questa zona di Westeros, ma, se non sbaglio, Martin aveva pianificato cinque racconti per chiudere la vicenda di questi due personaggi, ne ha scritti solo tre, molti, 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 molti anni fa, e non è mai più andato avanti. Vi ricorda qualcosa? Quindi, ancora una volta, ci troveremo alle prese con una serie che non ha un finale. Sembra che con Game of Thrones non sia andata proprio bene, bene, bene. Quindi il mio dubbio è tutto lì. È ancora una volta una storia che ha uno sviluppo, una fase centrale, ma non una conclusione. Erano nove, ripeto, magari sul numero di iscritti mi sbaglio, però non li ha finiti. Questa è la cosa che conta. Non li ha mai portati a termine. Mai. E non è che qualcuno può dire vabbè, ma l'ultimo l'ha scritto l'anno scorso, quindi ci sta lavorando. No, 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 non se ne sa più nulla. Zero totale. Magari questa serie potrebbe essere la spinta propulsiva che porterà Martin a completare l'opera, ma mi risulta che Game of Thrones come serie non gli abbia fornito alcuna carica in questo senso, anzi, tutt'altro. Quindi a me spaventa questo. Poi speriamo che sia un prodotto che rientri maggiormente nei miei gusti rispetto ad House of the Dragon, ecco. Che non cerchino sempre di inseguire dei connotati un po' trash, un po' pruriginosi. Vorrei qualcosa di più semplice come d'altro canto è la fonte primaria. I due attori comunque semplicemente a livello estetico mi piacciono. Ci mancherebbe altro. Soprattutto il bambino. Caro Cap, non so quanto ha questo spin-off del Trono di Spade, ma arriva, arriva. Allora, non ho letto i racconti, quindi non posso fare nessun metodo di paragone. Ho letto un numero di libri, ma non questi racconti. Prima di tutto diciamo mi trovo in disaccordo perché a me diciamo la prima di House of the Dragon mi è piaciocchiata. non in maniera totale, perché comunque venivo, come tanti, da una bella scottatura di drago che purtroppo è la fine di Game of Thrones perché è veramente senza rivedere, ma è una cosa veramente da mani nei capelli l'ultima stagione. Io poi dico sempre questo, la cosa che mi fa più ridere dell'ultima stagione del Trono di Spade non è in sé le puntate, le dichiarazioni che venivano fatte di puntata in puntata da Benioff e Weiss quando presentavano le puntate. Ricordo ancora, guarda, come fosse oggi la terza puntata, quella che fu mandata in onda con problematiche totali legate al troppo buio, se ti ricordi, era malfatta proprio così, che prima di uscire, ricordo ancora, il giorno prima dissero guarda, guardate, sarà il nuovo fosso di Elm. Questa cosa non me la potrò dimenticare. per importanza culturale, sarà il nuovo fosso di Elm. Cioè, questa cosa proprio non... E poi il giorno dopo ci sta puntata, le risate, non me ne posso dimenticare queste cose, però a me è piaciucchiata House of the Dragon, sono curioso di vedere la seconda stagione. Posso chiarire una cosa? Perché leggo in chat, ma c'è un libro al di fuori di House of the Dragon che Martin ha effettivamente finito? Non è finito manco House of the Dragon, nel senso che la storia che ci stanno raccontando fa parte di una cronologia della dinastia Targaryen di cui è scritto il primo volume ma non il secondo. Quindi non è terminato manco quello. Non so se vi rendete conto di come lavori quest'uomo. No, è... Finito neppure quello. Quindi, ormai ci ha fatto un po' il callo sul... sul... sul fatto che ci troviamo di fronte a un prodotto monco e questa cosa secondo me è sbagliata dal principio anche soltanto mettere a pianificare qualcosa perché purtroppo o fai un qualcosa di tuo e lo annunci dicendo prendiamo spunto dal materiale ma ci prendiamo delle libertà autoriali e secondo me se tu lo presenti in questo modo la gente non ti dice niente perché facciamo un paragone i cinecomics quante volte magari mettono un nome di una run famosa e poi si prendono la libertà perché dico no, attingiamo a quel materiale ma non facciamo la copia carbone ecco purtroppo abbiamo visto che Benioff e Compagnia Bella sono stati molto bravi a fare il ricalco di tante cose di Martin per poi perdere la bussola quando sono stati lasciati soli in questo caso secondo me è la stessa cosa parti bene poi come finisci ti può anche dir bene che magari sei così bravo ad avere azzeccato il mood e la porti in porto bene la barca però anche qui a Sole Dragon vedremo punto di domanda come andrà avanti eppure questo mi inclusisce molto la questione un po' scansonata cioè mi piacerebbe vedere qualcosa di molto leggero che però viaggi per il mondo di Westeros come se fosse un extra che vede un po' e magari possano essere non so i palatini della giustizia che vanno lì a risolvere anche per assurdo la persona che possiede quel castello che maltratta la popolazione liberano quella popolazione anche di posto di cento persone però capito racconti una storia un po' più carina divertente eroica con lo scudiero e altro non so però non ho altri elementi per né criticare né promuovere la situazione mi spaventa il fatto che vogliano comunque far sempre più prodotti su questo brand quando però alla fine non c'è niente di concreto non c'è un punto fine quindi non so come puoi pianificare qualcosa di questo tipo anche per prodotti futuri quando non sai Martin stesso che cosa farà che cosa non farà soprattutto diciamo che a livello seriale per loro una fine c'è ed è quella che conosciamo quindi sì però non tornando indietro con i prodotti un po' così ripeto vedremo sì io sono moderatamente interessato però il fattore rischio è alto vediamo anche poi come raccontano questo materiale magari appunto lo espandono lo arricchiscono certo è che il finale seppur abbastanza prevedibile ci mancherebbe se lo dovranno inventare un conto è sapere il punto d'arrivo ma qual è il percorso a livello di avventure di psicologia di evoluzione dei personaggi lì andranno presumibilmente di sana pianta poi sono sicuro che diranno che c'è la consulenza di Martin bla 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 ma c'era anche nella serie madre poi abbiamo visto vabbè comunque auguriamo un gigantesco in bocca al lupo è evidente che HBO voglia continuare a sfruttare questa gallina delle uova d'oro e al posto loro probabilmente faremmo altrettanto attenzione però alla bolla speculativa che adesso il pubblico ce l'hai se poi gli proponi troppe cose magari a un certo punto ci si scoccia e sappiamo che può accadere con grande facilità infatti parliamo di Marvel allora sappiamo che Silver Surfer nel nuovo film dei Fantastici Quattro sarà interpretato anzi interpretata dall'attrice Giulia Garner infatti si parla di una versione alternativa quella di Shalabal ma è successo qualcosa di insolito a seguito di quest'annuncio Lucky Stanfield che è un attore che sta cominciando a prendere i piedi in quel di Hollywood a me piace molto ha scritto credo su X o Threats un social di questo tipo un messaggio che poi ha cancellato commentando proprio la notizia in questione e scrivendo papale papale pensavo che sarei stato io ah così non lo sapevi? no non sapevo di questa cosa oddio bella pensavo che sarei stato io ora come al solito possiamo dare vita a diverse riflessioni su vari livelli la prima evidentemente se prendiamo queste parole per vere la decisione di proporre Shalabal come Silver Surfer non è stata effettuata a monte loro hanno provinato diversi attori di qualsiasi tipo e poi hanno scelto Giulia Garner cosa che io sono contento ma potrebbe essere una dimostrazione del sospetto che ho io ovvero che abbiano utilizzato il nome di questo personaggio alternativo per tranquillizzare una determinata schiera di fan che rompono sapete cosa perché aiuto le donne ci fanno tanta paura ma semplicemente diciamo che un nome uno specchietto per la lodole hanno voluto fare un Silver Surfer donna oppure questa è la prima alternativa oppure lei effettivamente è il Silver Surfer di Shalabal potrebbe esserci quello classico di Norrin Rudd in quel caso interpretato da Lucky Stanfield magari volevano già farlo esordire in questo primo film forse hanno cambiato idea ma comunque lui rimane un nome caldo oppure ancora una volta lui c'è nel film quindi vedremo due Silver Surfer come d'altro canto nei fumetti ambientati su Terra X e quest'attore sta cominciando a creare un po' di chiacchiericcio quindi una strategia di marketing lui lo scrive poi lo cancella se ne parla se dovessi così puntare io alla roulette direi che la prima opzione è forse quella corretta ovvero loro hanno provinato tanti attori alla fine hanno detto Giulia Garner ci piace sì abbiamo un aggancio fumettistico per giustificare la cosa sì il film è ambientato in una terra parallela del multiverso sì questa è una mia speculazione e quindi siamo tutti felici tutti tranne la Kit Stanfield che a quanto pare ha perso un ruolo bisogna capire non gliel'hanno comunicato gli hanno detto le faremo sapere come succede a noi comuni mortali quando andiamo a fare i colloqui di lavoro no ma le facciamo sapere sia in caso positivo che negativo non è vero mai mai e poverino forse gli è andata così gli hanno fatto sapere ma per vie traverse guarda che non sei tu cap non so come leggi questa situazione è abbastanza strana perché un attore si esprime così ma io come io credevo io ti speravo posso vado a valanga su questa cosa secondo me ha fatto questo post e non è secondo me una strategia di marketing in questo caso è secondo me un errore dettato da il fatto che lui stesso chi l'ha provinato chi l'ha supportato in questo non l'abbia messo al corrente della sceneggiatura completa che significa che questo che noi vedremo qui è un civil surfer donna in questo caso di un universo alternativo perché praticamente in maniera indiretta hanno svelato il segreto di pulcinella ossia ma come possiamo rendere possibile il fatto che i fantastici quattro siano presenti nell'universo se uno sai quando non ci sono mai stati durante Thanos Ultron e tutte le altre minacce globali ecco perché veniamo da un altro universo casualmente passeranno per la zona negativa casualmente dalla zona negativa arriveranno per puro caso nella terra attuale dove tutti quanti noi conosciamo questo sarà il filone per poi vedere come si concluderà i fantastici quattro è semplicemente in questo modo magari lui stesso non sa che a fine a fine tra virgolette perché le riprese non sono iniziate non c'è ancora niente che a fine diciamo del film saranno in questa nuova realtà e in questa nuova realtà per mezzo secondo ci sarà il nuovo civil surfer punto che è lui o magari è un'altra persona questa è la mia è la mia ipotesi perché comunque è già stato detto cioè è stato detto hanno mostrato quel quel poster della torcia umana che fa comprendere tranquillamente che siamo altrove non sapevamo lo stesso discorso per i mutanti come li adatti come li metti come rendi possibile hai la fortuna che soprattutto con i fantastici quattro ti puoi giocare oltre che la carta del multiverso anche la zona negativa che è una cosa proprio che è l'assist perfetto per proprio non far neanche parlare nessuno neanche ma non è possibile con la zona negativa tutti i stanzitti perché è plausibile che ci sia questo problema van lì e basta nel senso mi piace che si utilizzi questo mi piace che abbiano un po' ricercato qualche dettaglio in più dal materia originale chi critica questa scelta è semplicemente un ottuso che non sa nemmeno cosa sia il personaggio perché non c'è proprio alcun problema non è una forzatura non c'è il femminismo che dirompa nell'MCU e perché tutti devono essere donna e via assolutamente no basta non 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 trovo la problematica anzi io continuo a dire che questo progetto mi mi solledica molto mi piace tantissimo come stanno comunicando alcune cose mi piace davvero tanto quel che hanno fatto pochi giorni fa con insomma anche sul sito che hanno fatto quel teaser dei fumetti su cui hanno ripreso diciamo spunto per poterci lavorare sopra tra Byron i life story recenti insomma è molto interessante anche questo percorso quindi vediamo vediamo tutto qua e poi ho visto un Queen super entusiasta di essere a Torcioman non so se hai visto quella foto quel video che lui autografa il poster che hanno provato non so se avete visto c'è tipo una mini clip che hanno provato a fargli dire Flame ma non lo dice perché non può dirlo penso in questo momento per fare c'era un fan che tipo diceva tipo Flame tipo e mi dice fai dirlo sto Flame non potrà mai dirlo perché sono sicuro che nel primo teaser vedremo alla fine o durante lui che urla Flame per la prima volta quindi bello oh sono contentissimo mi piace quindi non vedo il problema io penso che sicuramente il film sarà ambientato da un'altra parte ma che Silver Surfer sarà lei e basta però volevo specificare la cosa perché forse non mi sono spiegato bene perché leggo in chat avrebbero deciso di cambiare sesso al personaggio a fronte della mancanza di un casting maschile adeguato ragazzi posso dirlo papale papale Silver Surfer è un personaggio il cui genere non altera la caratterizzazione anzi è sempre stato molto un po' la dottor Manhattan certo hanno creato una storia d'amore con Shalabal ci mancherebbe altro però un personaggio veramente quasi shakespeariano molto poetico filosofico io penso che abbiano provinato una schiera infinita di attori e che abbiano detto cavolo lei è perfetta perché magari lo interpreta o la interpreta in un modo molto molto aulico ha una credibilità in scena di inaudita potenza e si sono detti abbiamo un Silver Surfer donna nei fumetti sì guarda caso è persino il Silver Surfer di una terra parallela sì a posto abbiamo salvato capra e cavoli siamo contenti noi cioè è un personaggio questo magari parlando a chi non mastica al fumetto non l'ha mai letto granché è un personaggio che si presta serenamente a qualsiasi cambiamento sessuale in questo tipo perché non altera come ha detto Mattia proprio il pensiero comune l'importante ecco in questo caso che non m'è alterata la caratteristica l'indole quella è importante non che sia donna certo che se arriva un Silver Surfer inizia a fare il buffone tipo stile Star Lord è un problema non accadrà mai però come leggo anche in chat basta che vi leggete parabola di Mobius e capite la stoicità del personaggio tutto qua cioè ragazzi io non so come dire mi sembrava di ricordarlo ma in molte rappresentazioni non ce l'ha cioè sì ma lo sbarabaus è un po' non vedo proprio il problema tutto qua davvero cioè si nota una presenza ma non comunque davvero cioè se questo è un problema vabbè no no ma non era posta come una roba problematica no 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 però quando ho letto la notizia tu non puoi io le ripenso ah ovvio ho letto certi commenti ragazzi mamma mamma mia mamma mia brutto brutto immagino immagino ma passiamo al main event tanto rimaniamo in questa zona vabbè qua pure pulcinella proprio c'è una persona ci sono diverse persone che all'indomani di endgame vi hanno detto chris evans e robert downy junior torna ma no impossibile lui è morto verrebbe vanificato il suo sacrificio torna no no è impossibile hai letto ha detto che in questo periodo vuole fare altre cose poi openheimer torna e infatti ovvio non è che si tratti proprio di una dichiarazione in cui dice sì sì ma guardate ho già firmato il contratto praticamente mi vedete in secret wars però robert downy junior dice questo gli viene posta la domanda torneresti nell'mcu e lui risponde così con molta felicità è una parte fondamentale del mio dna quel ruolo mi ha scelto e io dico sempre mai mai scommettere contro Kevin Feige sarebbe una scommessa persa lui vince sempre più chiaro di così ma però capo allora io mi sembra che io sia stato uno di quelli come te che ha sempre detto sta cosa ci sono mille repliche del Matioski show che lo diciamo da un anno o due allora due cose prima se c'è questa dichiarazione che conferma diciamo ancora di più io già posso anticiparti che lo vediamo come Simil Jarvis è dentro l'armatura di Ironheart lo credo lo credo anch'io guarda oggi che giorno è 9 aprile segniamolo questa è la cosina 9 aprile come come facciamo come facciamo interessare la gente ad Ironheart Tiserino con lei che parla con l'interfaccia l'ologramma di Robert esatto ma magari è persino un ologramma che ha dei movimenti è al 100% plot lei sta al MIT costruisce questa armatura magicamente prende questa tecnologia da qualche parte e dentro c'è Robert che aveva lasciato in qualche modo la sua coscienza digitale pensando che poi sarebbe passata miglior vita con gli scontri semplice io ho immaginato che potrebbero aver rimandato Ironheart di un anno per cercare di capire se da un junior sarebbe salito a bordo e fare gli adeguati rishoot poi magari non sarà così ma ne ho la certezza perché quello è stato una delle poche cose salvabili in alcune run di Ironheart perché comunque era carino tra virgolette questo e poi ovviamente sono sicuro al 100% che sarà presente in Secret Wars in una variante in questo caso ovviamente bisogna capire il problema di fondo che se in Ironheart l'unica mia perplessità tra virgolette di Ironheart è il fatto che vediamo un simile Jarvis con lui che parla mentre in Secret Wars bisogna capire che tipo di variante sia perché comunque ci sono tante chiacchiere sopra io continuo a ripetere che vorrei tanto per questioni di coerenza narrativa vedere un Tony Stark molto bastardo perché viene dall'universo che regrama vendetta perché sappiamo quel che accade lo ripeto sempre per me l'abbiamo detto il primo film loro sconfiggono o Kang o quel che sia ma per far questo fanno qualcosa con conseguenze di incursioni che ci sarà poi in Secret Wars in Secret Wars l'incursione è l'universo di Multiverse of Madness che ha trovato il modo per vendicarsi dalla distruzione degli Illuminati a causa di Wanda eccetera eccetera e c'è lui come Superior Iron Man con tutta la tecnologia del caso con il suo esercito di Ultron eccetera eccetera per me è quello vediamo insomma io lo penso in questo modo non penso di rivedere un'altra variante buona tra virgolette mi stupirebbe onestamente perché lì cozzerebbe un po' con la fine di Endgame se te lo presento in un quattro modo non succede niente non succede nulla questo è come anche secondo me Chris Evans che è capitano idra 100% mezzo in qualche secondo in trallazzo lo vedremo ai vertici dell'idra in qualche altra alternativa perché per me quella è lo scopo vedremo questo è il mio pensiero ma lo dico già ora materiale promozionale per far sì che la gente si interessi Ironheart lei che parla con l'ologramma di Robert Downey Jr di Tony Stark per aiutarla a diventare più brava più a creare un'armatura o quel che sia ricordandoci sempre che il capo originale potrebbe essere ancora vivo perché non sappiamo che fine abbia fatto e secondo me tornerà anche quello sì allora io me l'aspetto hai già detto tu non penso sia un caso l'insistenza sul progetto Armor Wars che comunque dovrebbe parlare dell'eretaggio delle armature di Tony e se riescono ad averlo come intelligenza artificiale voce alla Jarvis magari persino in qualche flashback o in qualche registrazione il film è venduto lo metti nel trailer ce l'hai fatta senza troppo impegno senza chissà quale orchestrazione particolare della trama e poi in Secret Wars credo ci saranno tutti ma proprio tutti tranne forse Scarlett Johansson per via della polemica ma adesso l'amministrazione è cambiata nuovamente quindi magari se le fanno una telefonata questa si convince anche a fare ciao ciao un attimino in un ruolo magari di pochi minuti ma giusto per andare a coronare tutti questi anni di MCU quindi sì per me è una cosa assolutamente scontata e che francamente vorrei anche vedere sinceramente mi piacerebbe vederlo tornare dopo comunque un numero di anni abbastanza corposi e fermo restando che probabilmente sarà anche l'ultima occasione per fare questa rimpatriata visto che io rimango dell'idea che dopo Secret Wars ci sarà un soft reboot e quindi avremo magari un nuovo Iron Man ma con un'altra faccia idea mia sapete che io ho questa linea di condotta a livello di teorie che non abbandono anche perché finora la sto imbroccando vedasi fantastici quattro multiversali che sembrano ormai confermati non è detto al cento per cento ci mancherebbe magari quel poster con la città futuristica un amo perché i pesci abbocchino e poi i film si ambientano nella contemporaneità dell'MCU della terra principale ma se tanto mi da tanto insomma tu saresti a favore comunque del ritorno di Robert Downey Jr io a maggior ragione dopo Oppenheimer sì dai per me lui fa anche qui sono molto onesto lui fino a Oppenheimer o meglio non fino a Oppenheimer fino agli ultimi mesi che hanno ci siamo vicini agli Oscar non sarebbe mai tornando dell'MCU lui non ha appena avuto la statuina si è seduto come Thanos e ha detto non ho più niente non ho più nulla da dimostrare a nessuno perché lui ormai ha finito c'è il suo percorso tra virgolette che altro si può togliere può vincere un altro Oscar non lo so magari glielo auguro in qualche altro film pazzesco becca un'altra volta ci può stare però lui ha finito cioè lui sa che adesso è un bambino ancora giovane perché ha 59 anni non ce n'ha 80 che può togliersi tutti gli altri sfizi vuole tornare all'MCU lo fa vuole fare che cacchio ne so il Dottor Dolittle remake pure lui che cacchio ne so può divertirsi perché ormai lui con Open Hammer ha zittito tutti cioè tutti quelli che hanno detto sei soltanto Tony Stark non hai fatto altro nella vita se non fallire e poi avere la fortuna di vivere questa carnevalata perché questo è del cinema magari dei grandi esperti luminari l'hanno sempre visto come vabbè ma stai a fare il personaggio di un fumetto che sei un attore ai livelli di questo o quell'altro quando ti presenti davanti a queste persone con una statuina con uno dei film che ha vinto di più che ha dominato e che rimarrà nella storia del cinema che vuoi dire hai ragione tu quindi adesso lui può far tutto non mi stupirei che si facesse anche questo benedetto come tanto chiacchierato Sherlock Holmes ancora più cazzone di prima perché non non ha non ha proprio più vincoli lui cioè spero di essermi spiegato col discorso lui da quando ha vinto l'Oscar secondo me ha fatto proprio ah adesso qualsiasi cosa mi venga se mi piace la faccio senza nessuno che mi dica senza mi faccia problemi questo è senza l'Oscar lo dico ora senza l'Oscar forse in Secret Wars ma veramente a suon di soldi quelli veri ma tanti soldi di Kevin Feige e compagnia bella ma con il fatto che ha vinto l'Oscar proprio hanno già neanche il contratto si presenta sul set e dice vabbè che dobbiamo fare cioè quindi così lo penso così ma proprio la certezza poi io tra le righe leggo anche una proposta già arrivata dice che Kevin Feige non bisogna scommettere contro di lui quindi secondo me si sono anche già abbondantemente sentiti ma per quanto è piaciuto di Feige l'avrà chiamato tipo 5 minuti dopo l'Oscar dicendo amico mio dai forse hai vinto l'Oscar vieni qua forse che qua dobbiamo risollevare la carrozza vieni per favore andiamo e via ritornerei con gioia è una parte integrante del mio DNA quel ruolo mi ha scelto proprio sbilanciato in positivo non è che ha detto ma forse se mi proponessero la sceneggiatura giusta come sta facendo Chris Evans al momento è un ruolo a cui sono molto affezionato ci sarebbe bisogno del film corretto qui è proprio andato andato dritto posso dirti che una cattiveria su Evans è perché purtroppo post cap c'è veramente il deserto hai ragione hai ragione c'è il deserto del Sahara questa è la realtà dei fatti per tante congiunzioni astrali Robert Downey Jr diciamo sempre però che post Iron Man ne ha collezionati due tre flopponi di quelli proprio importanti Dolittle cioè Dolittle è una roba da mai nei capelli ma di una bruttezza totale quindi non diciamo è stato anche fortunato a trovarsi nel posto giusto nel momento giusto con il regista che ha tirato fuori il film più impronosticabile perché io sfido chiunque un anno e mezzo fa ora ad aprile 2023 Oppenheimer Oscar 2024 era difficile come pronostico era attesissimo ma difficile come pronostico e soprattutto la sua performance ma con tutto il cuore quindi è stato anche fortunato su questo leggo mi chiedo come avremmo reagito se le nuove proposte ci avessero convinto io lo dico ancora prima di aver conosciuto le nuove proposte lo dicevo dall'indomani di Endgame è una dinamica fumettistica consolidata non muore mai nessuno per davvero adesso noi stiamo pensando a un ritorno per vie traverse quindi l'intelligenza artificiale la versione alternativa ma a me non stupirebbe neanche se riportassero in vita al Tony Stark proprio principale non penso lo faranno eh ma se avessero quest'idea sarebbe tipicamente fumettistica tutto torna nessun umore eccetto Marvel oltretutto non penso che lui voglia fare Iron Man 4 soppiantanti nuovi personaggi abbiamo pensato a un ruolo di supporto di Ironheart che ha bisogno di essere lanciata e magari di una variante cattiva lo stiamo collocando in zone particolari io in Capito Manerica 4 Chris Evans nella post credit me l'attendo poi ti piacerebbe rivederlo cattivo per un po' sì certo a me tantissimo proprio tanto tanto con l'esercito di Ultron che attacca la terra piacerebbe tantissimo tanto tanto leggo gli unici rimasti morti sono zio Ben Gwen Stacy Marvel i genitori di Batman possiamo togliere Gwen Stacy che tanto ormai ha furia di Spider Gwen praticamente come se fosse tornata in vita poi sì quella della terra principale ancora sottoterra ma come percezione è bella pimpante poi ovvio un tempo un tempo si diceva che non sarebbe tornato Bucky e Jason Todd e invece e invece deve tornare l'unico personaggio che hanno avuto il coraggio di sacrificare in che senso mi sembra che Loki sia già tornato quante volte sì leggermente un paio di volte almeno due sono fatto bene i conti sì però ragazzi il Thomas Wayne Batman non è una presenza costante Spider Gwen ormai sì c'è veramente anche nei film al cinema vabbè quindi siamo entrambi favorevoli a posto abbiamo concluso l'argomento principale di oggi mi sa e riparleremo detto questo direi di chiudere e di aprire l'angolino dell'autopromozione Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap le vostre domande privilegeremo gli interventi via super chat ma soprattutto massima priorità avranno le domande degli abbonati questa manica di raccomandati che sono diventati tali abbonandosi al canale cosa che potete fare tutti voi ricevendo in cambio un'ampia gamma di ricchi premi vantaggi cotillon giusto appunto ascolteremo in primis i quesiti di questa bella gente che ogni settimana può assistere a due dirette in più della durata di un'ora sono dirette extra speciali che solo gli abbonati possono guardare in cui approfondiamo gli argomenti rispondo a tutte le domande un'ulteriore occasione per trovare soddisfazione per le vostre curiosità e vi ricordo che gli abbonati di livello più alto diventano ospiti veri e propri del canale nell'ambito delle puntate del mercoledì del matioschi show quindi conviene conviene pensateci vi parlo anche di pampling sito che ogni giorno ci propone tante magliette a tema nerd con stampe che fanno riferimento a tutto il mondo della cultura pop torna un classico amatissimo una delle mie t-shirt preferite se non l'avete acquistata in precedenza direi che il caso di farlo anche perché l'estate sta arrivando e quindi perché non lanciarci in una bella partita italia marocco se volete far la vostra vi consiglio in fase d'acquisto di applicare il codice intima 8 ci sono anche tante altre t-shirt nel catalogo del sito ci mancherebbe applicate il codice intima 8 perché vi porterete a casa un paio di calze gratis sono calze sempre con stampe di questo tipo colorate divertenti con citazioni a film serie tv eccetera il codice intima 8 non scade mai ed è sempre riutilizzabile quindi potete utilizzarlo a ripetizione portandovi a casa ogni volta un paio di calze diverso e sempre gratis vi parlo anche di nord vpn servizio vpn dalle molteplici funzionalità che ci regala una connessione ad internet sicura e agevole permettendoci anche di collegarci al web in modo fittizio da un punto qualsiasi del globo terraqueo e a cosa serve questa cosa per visitare siti che magari sono stati oscurati in italia per approfittare di sconti vantaggi promozioni disponibili all'estero utilizzando il link che trovate in descrizione nordvpn.com slash matioschi vi cuccate uno sconto di benvenuto quattro mesi di utilizzo gratis a patto di abbonarvi al piano biennale e la possibilità entro 30 giorni di chiedere il rimborso del 100 per cento quindi in sostanza avete un mese di prova a proposito di mesi di prova chiudo l'angolino parlandovi di hod tv piattaforma streaming italiana interamente dedicata al cinema horror e thriller indipendente e internazionale quindi trovate un sacco di pellicole che magari hanno partecipato a festival di genere molto molto importanti e conosciuti disponibili solo qui tutti lingua italiana alcuni doppiati altri sottotitolati di norma ci sarebbe un mese di prova per tutti ma se utilizzate il link che trovate in descrizione in questo momento oppure se siete più smart se utilizzate questo codice core potete usufruire dei contenuti della piattaforma per 60 giorni due mesi senza spendere un centesimo sono due mesi di prova veri e propri quindi se vi va date un'occhiata sono sicuro che non rimarrete delusi detto ciò passiamo all'ascolto delle domande degli abbonati quindi vado nel gruppo telegram a loro dedicato e scopriamo chi è il primo oggi della lista in cima troviamo devollo quindi è la sua volta prego vi volevo chiedere se avete visto tutti i film di narnia e qual è il vostro rapporto con i film fatemi sapere la vostra grazie e buona puntata hai visto i film di narnia allora ho visto soltanto il primo soltanto il primo quindi non ho non ho una conoscenza approfondita so che stanno lavorando a un un remake non so un punto zero per rifare da capo però ho letto soltanto il primo il libro lo ammetto in una libreria ma non l'ho mai finito di leggere mai quindi non so se tu hai una conoscenza più approfondita ma non l'ho mai non l'ho mai concluso quindi ammetto che quando ero piccolo quando uscì non mi ha non mi ha anche preso narnia non ci posso fare niente no i libri non li ho mai letti anche perché tra forma di scrittura rivolte ai più piccoli e metafore cristologiche assortite non era proprio in linea con i miei gusti detto questo visto sì tutti i film ma non me li ricordo il primo credo di averlo guardato due volte forse a livello integrale una sola ed era un film fantasy per ragazzi abbastanza carino su questo non c'è dubbio il secondo e il terzo stavolta ho proprio la garanzia li ho visti una volta sola mi sono piaciuti entrambi a conti fatti forse in particolar modo il secondo anche per via dell'influenza italica dato che nel cast c'erano castellitto e favino ma se mi chiedete di raccontarveli non mi ricordo nulla non sono particolarmente affezionato alla saga mentirei se vi dicessi che attendo questo reboot firmato greta gerwig con un con una trepidazione inaudita stiamo a vedere comunque non è che li ricordo con antipatia semplicemente non mi sono rimasti nel cuore non hanno fatto breccia nella mia nella mia mente questo no poi abbiamo devollo 2 la vendetta io volevo chiedere se secondo voi continueranno mai la saga se voi vorreste che la continuassero grazie ancora no probabilmente ti sei perso la notizia non la continueranno perché netflix ha comprato e ricomincerà da capo con il primo film che se non sbaglio dovrebbe essere sempre il leone la strega e l'armadio diretto da da greta gerwig che ha confermato dopo barbie la realizzazione della pellicola dovrebbe essere il suo prossimo progetto quindi lo fanno al al cento per cento in teoria fino ad eventuali smentite questo è non si va avanti ma si torna indietro poi chiuso con delle saluto matti oschi dall'ospedio di oggi so che probabilmente mi odierete ma vorrei ricollegarmi alla discussione su spiderman 4 con una provocazione ovvero un quarto batman di nolan voi lo accogliereste so che sono progetti che non si possono paragonare da solo per il fatto che nola la differenza di la imit non ha mai smesso di lavorare anzi ore più e più sulla cresta dell'onda che mai dopo l'osker però è la dc così come il su viene da un flop dopo l'altro o almeno firme sotto le aspettative ad eccezione di the batman quindi l'usato sicuro secondo voi gioverebbe alla cosa e vorrei chiedervi se voi vi vedreste il film che so che lo vedreste però sareste favorevoli alla sua produzione fatemi sapere grazie per risposta vorrei cominciare da te cap allora no no non non voglio assolutamente vedere un progetto che a cui è stato messo il punto e non non mi interessa più voglio cose nuove e visto che abbiamo di fronte del nuovo perché tornare indietro con qualcosa che per assurdo per assurdo è stata anche chiusa non proprio in maniera eccelsa perché dico questo era la gente mi sparerà a vista per questa cosa la trilogia di nolan di batman non calta sotto alcuni punti di vista c'è molta gente che mai l'apprezza di più chi l'apprezza di meno però già si vede che secondo me rice è inizia un po a scricchiolare per tanti motivi c'è tanto cuore c'è tanto c'è tanto di più però basta anche lo stesso bail secondo me ha messo un punto a quel tipo di produzione non voglio assolutamente vedere batman tipo come noi home perché dico questo perché secondo me personaggi magari qui sarò strano io gli spider man grazie anche la questione dello spider verse che sta un po sdoganato con il fumetto e poi ripreso con animazione eccetera eccetera ha un po creato questo effetto di normalità nel vedere più varianti più personaggi spider man insieme vedere lo stesso punto diversi batman come leggo anche chat secondo me sarebbe molto straniante e non mi piacerebbe minimamente leggo qui in chat poi sull'andare a riprendere cose chiuse cioè non capisco perché abbiamo un the batman e un reeves verse che è ammaliante sebbene sia completamente sbagliato il timing alla produzione in questo momento storico perché non non me ne vogliate ma per quanto io sia pro gun sapete quanto io ami gun e quanto sia certo del successo a meno di superman o altro presentare a un pubblico mainstream due batman nello stesso momento storico secondo me un errore madornale perché non parliamo di personaggi secondari di personaggi passabili dimenticabili parliamo di batman e io già mi immagino in questa chat nel medioski show tra un anno due tre anni o nelle box domande o in giro ma perché pattinson non è presente in questo trailer ma perché quell'altro batman non sta non è presente in questo film ma perché 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 si creerà confusione ma la godam dove c'è superman in questo momento succederà questo perché questa altra davanti a meno che la gente il pubblico mainstream non si renda conto ma qui manca l'ho detto lo ripeto una comunicazione visiva the batman elseworld scritto gigante elseworld e spiegare a un pubblico totale che elseworld è una cosa a parte ma mi rendo conto che è già complicato di suo quindi secondo me meno è meglio è e non vorrei di più ripeto non mi interessa non mi interessa neanche il pensiero di vedere più batman insieme è proprio un personaggio che secondo me è distante anni luce da queste operazioni commerciali spiderman ahimè per tanti motivi è diventata la normalità grazie anche a degli esempi virtuosi legati all'animazione poche nel live action sia bello o meno il film possiamo parlarne per 500 mila motivi perché se togli l'effetto nostalgia new home è una bottiglia con una falla e ogni tre secondi metti il cerotto per non far uscire l'acqua se tu togli l'effetto commovente perché anch'io mi sono commovente se sarei falso a dire che non mi sono emozionato e commosso con new home è la prima volta ma quando lo vedi la seconda volta la terza volta la quarta volta ti rendi conto che è veramente un una ferita con un cerotto che è rovinato e non riesce più attaccare esce sangue perché non funziona quindi evitiamo queste queste cose secondo me la mia linea di condotta non cambia ribadisco quello che ho detto nei riguardi dell'eventuale spiderman 4 di reimi non avrebbe senso nel caso di batman ancora peggio perché la trilogia di nolan è chiusa è conclusa io posso capire che spiderman 4 di reimi abbia la suggestione ma avrebbero dovuto farlo il finale del terzo abbastanza aperto non sappiamo bene come va davanti il rapporto tra peter e mary jane ok ma nel caso di nolan ragazzi c'è c'è il finale c'è il finale una trilogia che ha un inizio una fase centrale e una conclusione stop vi dico di più se volessero andare avanti batman non sarebbe christian bale sarebbe come si chiamava l'attore la cosa è gordon levitt sarebbe lui eh diventava il nuovo batman non so se vi ricordate lui è lui inoltre ancora ancora dopo la disfatta del batfleck io avrei potuto dire sì ma adesso c'è un altro batman quel povero pattinson che ha esordito con un primo film da urlo in senso positivo vogliamo permettergli di crescere di vivere e di respirare posto che sarà già schiacciato dal nonsense totale della warner che in contemporanea ci proporrà un altro batman voi vorreste anche per ipotesi me ne rendo conto quello di nolan che torna ragazzi bolle speculative non si può prendere un marchio che funziona e spingerlo giù per il gargarozzo del pubblico fino a scatenare un'indigestione e mi sorprende vista anche la puntata di faccia di nerdi venerdì che tanti non conoscano questa regola basilare del marketing oltretutto abbiamo vissuto da vicino e di persona con la gestione marvel degli ultimi anni perché a fronte della pandemia di tante cose che sappiamo hanno proposto troppi contenuti hanno dissipato le loro energie e hanno dissipato l'attenzione del pubblico che ad un certo punto alzato bandiera bianca infatti adesso stiamo tornando una programmazione diciamo un po più morigerata quest'anno ne vedremo uno di film dei marvel studios e basta uno però no spider-man ma che ne facciano 20 di batman 4 la pizza è buonissima mangiatela tutti i giorni a pranzo e cena per una settimana secondo me è arrivata alla fine che la vomitate e non avete più voglia di mangiarla per il resto della vostra vita e dai ma è successo anche con il mercato fumettistico eh gli x-men funzionano facciamo 20 testate infatti la gente si allontana quindi quindi no non lo vorrei nonostante tutto nonostante il mio amore no basta vecchiume viva le cose nuove caspita paolo ciao mattia sono tutti i aspetti dello show eh ieri l'hollywood reporter ha riportato appunto la notizia del della condanna definitiva eh di genotan majors e quindi volevo chiedere eh siccome il kind dine si uscirà nel duemilaventise e secondo me come come si muoverà la eh i recassi sicuramente erano già iniziati lo dico il il possibile annuncio eh per distogliere un pochino il tutto dalla notizia che comunque non fa male alla marvel ma è comunque anche male al major sin se però si sa come si ragiona a volte che è una bufera mediatica può comunque influenzare sulla casa di produzione secondo voi la marvel come agirà non c'era breve recassi lo aspetterà comunque al ridosso del duemilaventicinque duemilaventise dato che il film uscirà appunto del duemilaventisei fatemi sapere grazie alla risposta ottima puntata ma loro si sono già dissociati eh nel momento in cui hanno detto facciamo il recasting perché dovrebbero andare a rompere le balle a loro non è più associato alla marvel jonathan majors loro possono gestire la situazione come e quando vogliono non stanno ancora lavorando in maniera concreta a avengers 5 perché pare abbia perso la nomenclatura keng dynasty oltretutto un film che dovrebbe arrivare tra due anni e io continuo a dire che james gunn ci abituati male se il film arriva tra due anni non ha senso fare il casting adesso magari se ne comincia a parlare alla fine di quest'anno e non credo avranno problemi nel comunicare se ci sarà perché c'è anche questo dubbio che posso meno condividere non credo avranno problemi problemi ad annunciare il nuovo keng perché loro un po la maniera di ponzio pilato se ne sono già lavati le mani ha ragione perché comunque non è mica colpa loro se questo nel privato ha smattato non riesco a dire altro quello che ha detto mattia è questo non so non c'è altro a dire bene 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 c'è vedendo anche i prossimi annunci altro eventi secondo me verrà fatta forse leggermente luce a breve o comunque nel posto tempo perché manca ancora diverso tempo al film non c'è una campagna comunicativa da far iniziare non c'è niente ragazzi ci sono altri prodotti prima e la marvel e fai chi è molto più interessata già da quest'anno a spingere su un 2025 che porterà prodotti leggermente importanti per le sorti dell'emsu stesso nei prossimi anni che se siamo se arriviamo a fine 2025 che born again è un flop che fantastici quattro è un buco nell'acqua che capita in america 4 fa addormentare e tutto il resto vuol dire che siamo veramente con la sirena dell'emergenza definitiva dove non si torna quasi più indietro quindi piano tornando a prima per chi scrive vecchiume meglio del nuovo sì se vuoi ammazzare tutti i brand e le saghe di cui sei appassionato è la strada giusta oddio proprio ok ci sto per assurdo ogni volta che sento queste cose anche nei fumetti no ma non è come era prima ogni decade ha portato un rinnovamento una sperimentazione ripresa dal passato adattando ai giorni nostri per tanti motivi il vecchiume può essere un'ispirazione una musa ispiratrice per metterci qualcosa di nuovo e questa è la bellezza del fumetto soprattutto il fumetto americano rispetto anche al manga che inizia e finisce il personaggio cambia un personaggio scritto negli anni 70 è diverso da scritto nelle anni 2000 è questa la bellezza la che vuol dire che il vecchiume è sempre bene la nostalgia deve sempre vincere no prendi spunto ma adattalo dai una identità è la morte di tutto che poi tu hai parlato di manga no non è un caso che nel mercato attuale i manga abbiano divorato il fumetto supereroistico americano che c'è anche il concetto di storia che va avanti certo assolutamente sì non è un caso che la bonella in italia sia in crollo di vendite poverini loro ci provano perché quando provano a cambiare i personaggi ci sono i lettori settantenni che rompono le balle infatti ormai la leggono solo loro il vecchiume è la morte dell'evoluzione non è così in tutti i campi in tutti i campi ma ascoltiamo la seconda domanda di paolo seconda domanda un po così leggera siccome è una delle esperienze più belle che ho fatto stato andare a vedere il concerto di zimmer a milano diciamo che alla fine ripensandoci cioè se uno ci pensa forse l'unico che fa questo genere di cose almeno che io sappia che comunque fa i tour dove porta le sopranne sonore anche dando quella atmosfera da concerto pop rock veramente bello quindi vi chiedo se ci fosse un altro compositore che andreste a vedere in questo tipo di concerti chi vorreste andare a vedere io per come è adesso la situazione ovviamente uno potrebbe dire John Williams non so se l'è andata a vedere Morricone però per diciamo per andare un po' sullo su quelli un po' più scontati tralasciando Goranson che forse è quello del momento però mi piacerebbe molto Michael Giacchino che secondo me è un altro che con le sue colonne sonore potrebbe creare uno spettacolo simile secondo voi invece quali sono i vostri che appunto vorreste andare a vedere? io leggo in chat Williams l'ha fatto Williams l'ha fatto vi ricordate un tour di John Williams negli ultimi anni in Italia nei palazzetti io no altrimenti ci sarei andato quindi secondo me non rientra nella categoria fa dei concerti in America poi adesso anche l'età che sappiamo quindi è comprensibile ma non lo paragonerei a Zimmer che è sempre in giro per il mondo e in Italia negli ultimi anni è arrivato almeno almeno due volte forse persino tre credo che intendesse questo Paolo comunque tu hai detto che un po' scontato ma mi è venuto effettivamente subito in testa Goranson non appena hai posto la domanda quindi Goranson sì io di base ho già realizzato il mio sogno di concerto quindi non non è non sento il bisogno di realizzarne un altro di compositore che ho avuto la fortuna di sentire Gno Moricone dal vivo quindi per per me quello basta e avanza per tutta la vita come esperienza però se devo scegliere ti dico allora per per la questione proprio d'affetto Silvestri anche perché comunque perché per tutto quello che abbiamo visto negli ultimi 15 anni beccarmi in faccia il tema dei vendicatori con una grande cosa dietro è tanta roba è tanta roba poi subito dopo metterei Zimmer che non e poi subito dopo Goranson perché c'è beccarmi in faccia tutta la soundtrack di di Oppenheimer infosi investimi investimi dell'arte proprio voglio sentire la musica per tutta la vita quindi così in faccia proprio però posso dire che la l'esperienza con Moricone è una di quelle cose che mi porto da anni dentro che mi rimane per tutta la vita maestro una cosa pazzesca è stata medaglioso poi ovvio che William si impazzirei però non ci sono più le condizioni mannaggia quindi cercavo di basarmi su cose su cose fattibili Silvestri è fattibile in effetti sì quindi lo approvo comunque pensate anche che devono reggere un concerto intero è non è che si va a vederli solo per un tema tipo leggo John Powell con Dragon Trainer e poi cos'altro a me non viene in mente nulla magari adesso vado a vedere la filmografia e ha composto roba incredibile però no aspetta cambio le carte in tavola ho scordato un nome vergognosamente che va sopra Silvestri Elfman sì 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 io piangi qui sono nostalgico io l'ammetto qua è nostalgia però stiamo là Elfman sale sale tanto in quotazione bello non lo so non è mai stato tra i miei preferiti poi chiusa mi sa di sì è il suo turno tramite un sondaggio a più di 4000 atenti i BAFTA hanno eletto quello che è il personaggio più iconico del mondo dei videogiochi ed è Lara Croft ora il personaggio manca al cinema dal 2018 con il film di Alicia Vikander di cui il sequel è già stato cancellato a breve uscirà un anime in cui lei sarà doppiata da Elie Atwell la Peggy Carter su Netflix uscirà e sarà legata agli ultimi videogiochi però considera il fatto che in questo periodo i cine games tra serie tv e film vanno forte secondo voi sarebbe il buon periodo per mettere in produzione un nuovo reboot cinematografico con una nuova trice magari la butto lì Anna De Armas voi cosa ne pensereste grazie per le risposte e ottima puntata la domanda che mi viene in mente è questa l'hanno proposta in versione diciamo classica con Angelina Jolie l'hanno proposta in versione rinnovata legata al reboot videoludico con la Vikander se la vuoi proporre una terza volta che fai mi sembra che abbiano già esaurito le idee non so cosa puoi agganciarti sinceramente io eviterei anche perché lo stesso Uncharted non mi sembra che abbia sbancato come si aspettavano c'era un po' la pandemia di mezzo faranno il sequel magari andrà meglio rispetto al primo era una mezza fetechia il cinema d'avventura a quanto pare non regge il trascorrere degli anni pensate anche ad Indiana Jones possi loro investirei su altri progetti ma non sono neanche un appassionato così esperto di Lara Croft cap che mi dici sono cresciuto con i Lara Croft posso dire che ad esempio qualcuno è interessato ormai a diverso tempo c'è stato nel 2011-12 un ottimo esperimento di remake tra virgolette per le nuove generazioni su Tomb Raider di Square Enix è molto bello sono molto belli quei titoli di Tomb Raider per il resto onestamente non penso che la gente interessi vedere altre forme di trasposizioni con un personaggio che ha già dato sotto ogni punto di vista anche in film o altro non so bisogna sempre per farsi questa domanda a chi parlo? il pubblico passato ha avuto i suoi film hanno avuto successo? non lo so non so al tempo quanto successo hanno avuto ma per averne fatti due vuol dire che il primo sono rimasti nella memoria della cultura pop o altre cose no, non vedo no si chiacchiera di Lara Croft? non ne vedo assolutamente il bisogno quindi per me è un progetto che su me non ha proprio senso anche di esistere hanno fatto dei test basta pensare questo i videogiochi fatti nel 2010-11 su Play 4 o altri sono stati molto carini hanno esagerato a farne tanti e poi è diventato un more of the same e non ha detto nulla durante quel rinnovamento o meglio il rinascimento di Lara Croft a riello videoludico in un momento anche tra virgolette molto positivo per il mercato videoludico in quegli anni c'è mai stato qualcuno hai mai detto in giro vogliamo il film di Lara Croft? vogliamo il ritorno di questo? no, zero quindi vuol dire che la gente è a posto così tra l'altro non vorrei che il sondaggio di cui parli fosse in qualche modo influenzato dal fatto che recentemente è stata pubblicata la riedizione dei primi tre giochi se non erro con grafica un po' più quindi è un sondaggio che arriva anche in un momento particolare io non so se posto in condizioni neutrali vincerebbe Lara Croft posso dirlo? non lo so che i nuovi giocatori siano ancora affezionati al personaggio mi sembra strano ma anche a me rispetto a tante icone che ci stanno mi puzza tanto come cosa però non sono neanche dentro al mondo videoludico non sono dentro a quella bolla quindi non ne comprendo appieno le tendenze i vari passaggi di hype semplicemente mi sembra un po' strano e io lo ricordo il periodo in cui arrivò il film della Vikander non fregava niente a nessuno io sono andato a vederlo il primo giorno all'Arcadia non chiedetemi perché forse avevo del tempo libero da buttare sono andato a vederlo lì la sala era vuota saremmo stati in 15 c'è uno spettacolo di isolante e non c'era la pandemia di mezzo veramente non importava nessuno ed era un film lo ribadisco ricollegato al rilancio videoludico anche abbastanza fedele che io sappia la trama si hanno fatto un po' una miscellanea di elementi ma bene o male si seguiva col filone e più di quello che puoi fare e quello che ho detto prima più di quello cosa fai? non so poi domanda di Francesco Gervasi ciao Mattia e ciao Cap la mia domanda di oggi è appunto per Cap volevo un suo parere sulla seconda stagione di Invincible che si è conclusa settimana scorsa grazie per le risposte e un saluto a tutti vado velocissimo perché Mattia non so se l'ha seguito o meno no allora si risolleva pesantemente l'ultimo io ho fatto la full immersion sesto, settimo, ottavo il sesto è un episodio geniale il settimo è caruccio l'ottavo è meraviglioso meraviglioso adattamento perfetto semplicemente è un dovete prendere questo prodotto come assist semplicemente per leggere il fumetto ma in questo caso perché? perché è un buon adattamento può soltanto che migliorare perché comunque è evidente che loro stiano mettendo sempre più dollari di stagione in stagione perché si vede proprio totalmente questo quindi sono sicuro che non essendo ancora niente già lo dico chi non ha letto Invincible quel che avete visto in queste prime due stagioni è tipo cioè la punta dell'iceberg non avete visto nulla di Invincible parlandovi in termini fumetto ci sono nove omnibus la seconda stagione si conclude forse a metà del secondo omnibus sono nove quindi c'è praticamente tutto da vedere e fare bello l'animazione mi convince ancora poco sotto alcuni punti di vista io però sto seguendo in inglese spacca di brutto l'attore faceva audio The Walking Dead il cinese aiuto Steven Yun Steven Yun bravissimo 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 mi piace tanto quindi funziona funziona bene il prodotto sono contento che stia spingendo tantissimo le vendite del fumetto ero lo scorso settimana a Romics il primo giorno quando era uscita una puntata al giorno stesso mi ha impressionato perché sono stato lì un'ora a parlare con quelli di Saldapress e c'era un via vai in Minsipoli in Minsipoli in Minsipoli ho visto la serie di voi in Minsipoli tutti a comprare le cose quindi è importante questo e quindi date una chance al fumetto perché secondo me mai in questo caso leggete prima il fumetto perché qui mancano alcune cose la prima stagione secondo me è un po' zoppica la seconda è più carina sono molto curioso di vedere da terza in poi questo crescendo di qualità non del contenuto perché il contenuto è meraviglioso è la qualità che non è in questo momento all'altezza del contenuto dell'opera tutto qua passiamo alla seconda domanda sempre di Francesco Gervasi seconda domanda a tema fumetto vi chiedo cosa ne pensate della prima leggendaria run degli ultimate così proprio momento vecchio siamo vecchi siamo vecchi grazie io ogni volta che ne parlo dico sempre questo la genialità di aver fatto credere a tanta gente di leggere una storia sui Vendicatori quando era semplicemente una storia di guerra punto perché questa è molto politica molto guerra e c'era poco di Vendicatore se vai a vedere ma è geniale sotto quel punto di vista è un cult un cult è un'opera decostruzionista di quello vero però non fatto da Zack Snyder meraviglioso è il motivo per cui quando si parla di trasposizione ho sempre detto no è una satira c'è Capitano America che ha i limiti del fascismo no 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 diciamolo diciamolo proprio tranquillamente è un fascista nudo e crudo in quella estremizzato come non mai tutto qua c'è Hulk che si trasforma quando si arrapa è così è così è particolare è un cult io ripeto è da leggere una volta nella vita perché è veramente pazzesco sotto alcuni punti di vista io a volte mi domando recente stavo sistemando le cose come a quei tempi riuscino ad approvarla meno male perché era sotto l'etichetta ultimate per questo l'hanno fatto ma veramente pensate ora in questo momento storico presentarsi con i social con una storia di questo tipo forse non avevano neanche ben capito cosa stessi facendo Mark Millar no no proprio secondo me loro non hanno proprio capito ha fatto una supercazzola gigantesca detto no ma sì ma poi facciamo qualcosa sì ma vedi i personaggi poi ci penso io Millar un matto scocciato no no ragazzi non è una reinvenzione moderna è satira pura è satira degli Avengers c'è poco da fare è tosta però c'è anche qui magari per non far spaventare questo oddio come lo recupero c'è un albo unico che trovate in giro ultimates semplice ve lo leggete là e tanti saluti è particolarmente straniante se non siete abituati così poi vabbè ripeto c'è Itch che a me fa impazzire quindi vabbè dai su è un cult bella domanda è bello ogni tanto ricercano fuori queste cose belle leggiamo qualche domanda della chat oggi abbiamo tempo vai vai anche perché non intravedo super chat quindi se volete la lettura garantita sareste sostanzialmente al primo posto utilizzando la super chat altrimenti ci divertiamo con la lotteria della chat normale allora allora non so bene a cosa si riferisca l'utente quindi potrei essere impreparato magari Cap ne sa di più si parla di una sfuriata di James Gunn sul frets allora questo è un argomento molto interessante Gunn sta sub cioè sta subendo si sta accorgendo di un piccolo problema se vuoi diventare ambire a essere un piccolo tra virgolette Kevin Feige perché è quello che lui vuole diventare o lo sarà nel tempo non puoi purtroppo essere così attivo sui social e il fatto che lui sia costantemente attivo sui social risponda o altro crea problemi lui recentemente ha commentato vado a memoria qui magari se cerchi mi aiuti aveva smentito una notizia diciamo di o Deadline o quant'altro che aveva tipo diserato alcune notizie che poi sono uscite rimanendoci un po' male di questo e poi a un certo momento ha fatto un post su Trez dove praticamente in maniera molto diretta fa hai visto guardate questo è Superman è Superman c'è l'ex molto risentito da tutto quello da tutto quello che c'è sul web io l'ho visto come uno sfogo di una persona un po' satura dai commenti dalle notizie dai rumor fake e altro il problema però sapete quanto voglia bene a Gun quanto sia pro Gun se tu vuoi essere quel genere di addetto ai lavori non più un fan regista ma un direttore un manager purtroppo tu non devi più stare sui social in questo modo quindi io spero che si ridimensioni che non stia letteralmente ogni tre secondi a rispondere su Trezzo in giro alimentando chiacchiere e basta perché purtroppo così lui ne esce matto non regge la boda non impazzisce perché non ce lo possiamo far noi cioè Mattia fa un post su Instagram commenta io ma tu a quel livello non puoi fare post commentare rispondere commenti discutere con i fan sotto i commenti mentre stai lavorando a fare altre cose non non lo so avete mai visto Kevin Feige rispondere ai rumor di internet questo secondo me però posso vedo della positività su questo credo che questa sfuriata che non è poi una sfuriata uno sfogo sia stata un po' una sua salvezza per il futuro credo che si sia accorto definitivamente di cosa non deve più fare ma l'ho visto molto esausto già anche in alcune risposte perché lo seguo tanto lui iniziamo bene secondo me si tirerà un po' indietro cioè farà il suo vero lavoro dietro a lavorare basta quindi non so non so ma anche a livello di rumor stessero dicendo delle fesserie incredibili ma che te ne frega ma cosa te ne frega tanto poi il film parlerà per te che ti importa lui secondo me è una persona tanto 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 permalosa e gelosa delle sue creature lui non vuole vedere cose che magari infanghino il suo lavoro in questo momento che cacchio non lo so però vedo lo vedo un po' troppo sul cioè troppo sul pezzo sui social quando invece non dovrebbe starci non l'abbatto dovrebbe lavorare però dovrebbe cioè faccio sempre lo stesso discorso com'è possibile cioè questo è un errore che vedo reiterarsi dentro Warner Bros di quello che sia com'è possibile che in un mondo del genere per quanto Gunn sia uno dei vertici non ci sia un maledettissimo team ragazzi sapete il lavoro che faccio io un maledettissimo team di comunicazione e social media che lo assista in questo cioè come diavolo è possibile vedere questo cioè non io lo trovo assurdo vuoi essere attivo fai idea così campata per aria Gunn risponde fai una volta a settimana un box domande tre domande a caso dal pubblico e le rispondi basta vuoi essere così attivo sui social perché ti piace perché è evidente che lui piaccia stare tanto sui social va in questo modo basta vuoi fare una comunicazione fai uno statement un post su Instagram su Trez fatto bene e via perché diciamo c'è anche un'altra cosa e chiudo per quanto io mi sia fomentato penso molti il fatto che lui abbia annunciato il logo di Superman facendo la foto col telefonino proprio mentre sta facendo le riprese non è proprio bello a livello professionale mi sembra un po' un oh ragazzi ho fatto sta foto che ne dite la pubblichiamo ma sì faccela vedere pubblichiamo mi sembra un po' troppo a braccio ci vorrebbe un po' più di professionalità a livello di comunicazione se hai un progetto di questo tipo perché non è un one shot cioè questo lui deve capire che lui sta dando vita a un progetto per anni se andrà bene se andrà bene che se va male ma secondo me non conviene neanche continuare a parlare di continuo di sti cavolo di film è il discorso che facevamo prima se continui a parlarne tutti i giorni arriviamo all'uscita che non ne possiamo più vero che ormai ci uscirà dalle orecchie sto Superman basta basta lo stai girando ma sparisci per tre mesi o quanto dura il tempo delle riprese comunque ovviamente come ho detto prima sarà il film a parlare per lui ci mancherebbe altro sì sì però ripeto è un a me spaventa il fatto che a questo livello non ci sia qualcuno che dica le cose che sto dicendo ora io o che non lo arginino non lo so non lo so questa è la cosa che mi spaventa tutto qua perché sembriamo noi cioè sembri tu che stai facendo un film fai i tuoi post e rispondi a chi ti segue ma cioè capisci non va bene a quei livelli tutto qua allora avete sentito che scusate devo riprendere la domanda a parte che la state facendo in tanti quindi però la prima che ho letto è questa avete sentito che Megalopolis secondo le case di produzione sarebbe invendibile se volete la uniamo a qua avete letto secondo Hollywood Reporter che nessuna casa di produzione ha intenzione di distribuire Megalopolis di Coppola perché lo si ritiene poco commerciabile non avevo letto sto leggendo adesso non mi stupisce anche perché se l'è finanziato da solo nessuno ha voluto produrglielo si dice che forse potrebbe acquistarlo qualche piattaforma streaming sto leggendo veramente in maniera frettolosa il capo di uno studio di cui il sito non cita il nome dice non è un buon film ed è stato così triste guardarlo chiunque deciderà di accollarsi i costi perderà soldi non è così che Coppola dovrebbe concludere la sua carriera di regista Hollywood Reporter trovo difficile un veterano della distribuzione cinematografica dice trovo difficile credere che un qualsiasi distributore sarebbe disposto a metterci contanti eh ragazzi ripeto non è che mi sorprenda se non trovi gente che te lo finanzia trovi gente che te lo distribuisce non ricordo in quale diretta perché ne faccio tante eh di conseguenza mi dimentico poi del post in cui ho parlato del tale argomento ma siamo andati a controllare gli incassi degli ultimi film di Coppola guardate che è una tragedia eh se volete un giochino che possiamo fare anche adesso un giochino tristissimo allora eh regista gli ultimi film che ha fatto eh sono questi mi sa abbiamo Distant Vision del 2016 e che non trovo neanche non trovo neanche sui portali di incassi chissà perché vabbè Twixt film del 2011 quindi torniamo un po' indietro è suo c'era nel cast Val Kilmer 647 mila dollari passiamo a quello precedente segreti di famiglia titolo originale tetro ha incassato in tutto il mondo nel 2009 2 milioni 874 mila dollari un'altra giovinezza io questo l'ho visto in sala con Tim Roth del 2007 anche interessante come film a me era tutto sommato piaciuto in tutto il mondo 2 milioni 624 mila dollari io me lo ricordo l'arrivato in Italia distribuito bene perché l'ho visto la vedo grigia ovviamente gli auguro di trovare un distributore glielo auguro tantissime volte però se cominciamo a mettere in dubbio l'Hollywood Reporter ragazzi è meglio che chiudiamo la trasmissione e andiamo a parlare di caccia e pesca perché dai è la testata più autorevole in assoluto che poi sta parlando di un'eventualità non ha detto che non troverà mai la distribuzione ha detto che al momento secondo alcuni esperti dell'industria è difficile vabbè Cap non so cosa ne pensi non se purtroppo come te non so che dire su questo mi dispiace mi dispiace mi dispiace comunque parliamo di Coppola però se tutti quanti devono invendibili un motivo ci sarà questa è l'altra parte però quanto è stato speso il budget 100 milioni? fammi vedere Megalopolis budget 120 io a volte non capisco è impossibile che tu hai un finanziamento 120 milioni e poi arriva una cosa del genere non fai stime prima vabbè oltretutto c'è Apple con le risatine vi capisco io vi faccio presente che la grande Apple che spende spande perché tanto quelli hanno i soldi a fronte dell'insuccesso di Napoleon ha detto che non farà la versione estesa ricordate che c'era l'intenzione di distribuire la versione di quattro ore hanno detto che non la faranno più ma come non hanno soldi che gli escono da tutti i pori quelli della Apple eh non c'è una strategia a lungo termine no già eh ma la seconda vita di questi film quando arrivano su Apple TV ragazzi sbancano quello di Scorsese quello purtroppo determinati film commercialmente parlando non sbancano bisogna trovare un altro modo di produrli innanzitutto abbassando i costi perché effettivamente 120 milioni aiuto eh aiuto capisco che deve essere il suo capolavoro assoluto però bisogna anche mettersi a fare i conti vabbè 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 mi dispiace ma non è ancora detta l'ultima parola ci mancherebbe altro risalendo la chat vediamo vediamo cosa si trova perché c'erano delle domande interessanti prima che devo andare a ripescare a chi fareste comporre la colonna sonora dei Fantastici Quattro vi dico che sceglieranno io lo vedo già siete pronti uno due tre Michael Giacchino sono convinto che glielo proporranno convintissimo non male in che senso di nuovo sarebbe la prima volta per lui se fate ironia sugli incredibili non è un caso proprio per quello signore signori vero è un uomo Disney addirittura diretto l'Icantropus secondo me gliela fa se poi vogliono andare su altre strade un po' più innovative sperimentali possono anche prendere un nome non molto conosciuto ci mancherebbe altro però tenetevi pronti altra domandina direi l'ultima o la penultima vediamo come si mette la situazione ma ragazzi questo spin off su John Snow che fino ha fatto la struttura è sempre la stessa quando vedete annunciato un progetto non è detto che poi questo venga effettivamente realizzato tra parlarne annunciare l'intenzione di e ricevere la luce verde c'è un oceano probabilmente vorrebbero farlo ma come vedete gli sforzi sono concentrati altrove stanno producendo House of the Dragon che ha avuto un successo probabilmente superiore a quanto si aspettavano e credo andrà avanti almeno per quattro stagioni tre quattro stanno puntando su Dunkey Egg andiamo con calma adesso c'è bisogno di produrre venti progetti in contemporanea un po' per volte un po' per volta lo aspetti Cap eventualmente no no non onestamente no perché un progetto anche lì morto e sepolto è proprio un personaggio che secondo me non ha più nulla da dire dopo quello che è successo non ha più appeal perché per me la fine di quel progetto ha fatto un po' perdere interesse su una serie di personaggi tutto qua non mi dice nulla tutto qua film preferito di James Gunn dai che questa è una domanda bella rapida Guardiani della Galassia 1 Guardiani della Galassia 1 sì 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 non ho veramente dubbi vuoi sentirti vecchio? sì a ottobre sono dieci anni 22 ottobre 2014 a memoria dieci anni mannaggia mannaggia volevo rispondere al commento di Mario che probabilmente non era presente quando abbiamo parlato del primo argomento si stanno concentrando su prodotti per cui i libri sono già completi Dante e Egg non ha una conclusione quindi non è vero ne abbiamo parlato prima in maniera approfondita ma non è vero non hanno un finale in quel caso eppure la fanno bene Cap chiudiamo parlaci di Wrestlemania dai poi allora io sono in modalità proprio ho fatto la full immersion ho i messaggi scritto su Instagram allora ho detto mi devi dire che cosa devo fare cosa devo vedere ho fatto ok fai questo questo e quest'altro full immersion sono arrivato al weekend di Wrestlemania allora da persona che quindi non voglio dire sono il fan non sono ovviamente come Mattia e anche altri ragazzi di Facce di Chop insomma che ogni tanto ascolto con piacere l'appuntamento io non godevo così tanto con il wrestling lo ammetto da quando avevo 12-13 anni ma anche 15 o meglio colpi di scena del genere non li provavo guarda ti sto per tirare fuori forse una cosa molto banale dalla faida diciamo del tradimento del contratto non firmato da Battista con SmackDown ah beh certo io a quei tempi seguivo tutto io fino a fino ai 15-16 anni anche posto un po' le opurazioni per i motivi che sappiamo purtroppo per Benoit e Guerrero svanito il wrestling nella televisione generalista rimasto soltanto su Sky l'ho un po' abbandonato poi l'ho un po' perso di vista devo dire che cioè non so onestamente che cose si siano bevuti per fare una cosa del genere ma è meravigliosa cioè bello un film cioè un film ma di una qualità totale personaggi scritti bene poi io purtroppo o per fortuna sono un bimbo di rock quindi quindi il fatto che ormai dica final boss final boss final boss ogni testamento di chi ha visto sa però è bello cioè proprio ben costruito e ti dà proprio quell'illusione del fatto che qualcosa che spesso non mi accadeva più di vedere nel tempo è che non pensi che sia costruito pensi che sia vero perché l'interpretazione degli attori dei personaggi degli atleti è veramente fatta bene mamma mia cioè se potete recuperatevelo perché io non sono cioè sono veramente un fan che è tornato ed è tornato su DMAX sabato e domenica in chiaro gratis in versione integrale mi pare commentate in italiano quindi è bello mamma mia cioè la prima sera che ero venivo dal recupero un po' così dovevo un po' rimparare a seguire una serie di eventi però dico cioè insomma lo scontro finale bellissimo quello di domenica sera è stato meraviglioso cioè ho fatto la battuta prima l'infinity war endgame the wrestling in così condensato sì ma poi per i fan vecchi come me oh ma come fate a non seguire ora che c'ha tutto in mano Triple H è diventato il Vince McMahon cioè nuovo è lui insomma il gestore di tutto io ti dico solo che ieri notti a Raw hanno creato un mistero una cosa che ho detto ma che cazzo cosa e chissà quando lo sveleranno ma lo sanno è un po' tornata leggo in giro una nuova epoca perché veramente sta portando tanto pubblico anche passato sta tornando quindi fiada va bene va bene grazie Cap per aver partecipato ciao a tutti ragazzi buon pomeriggio un abbraccio ci vediamo alle 17 con il TG Cinecomica assieme all'uomo che sapeva troppo facciamo il riassunto delle notizie a tema degli ultimi sette giorni comprese alcune di cui non abbiamo mai parlato nelle altre dirette quindi siateci domani alle 14 Matioski Show e parleremo del trailer di Joker 2 ho questo vaghissimo sospetto mentre domani alle 17 seconda puntata della retrospettiva Pianeta delle Scimmie ed è il turno dell'altra faccia del Pianeta delle Scimmie grazie mille per essere stati con noi e alla prossima diretta ciao ragazzi ciao grazie mille Grazie a tutti.